Ciao bambini e bentornati! Oggi giochiamo con i Super Wings e precisamente con la postazione di allenamento di Jerome Sembra essere davvero un gioco divertentissimo ma guardiamo il retro della scatola Ci mostrano tutte le cose che possiamo fare con questa pista Ci divertiremo un mondo ad usare tutti questi pulsanti speciali Quindi apriamo subito il gioco Ed eccolo qui il nostro gioco Qui abbiamo proprio lui, è Jerome E questa è la pista di allenamento Guardiamo prima però Jerome Jerome è trasformabile Infatti possiamo utilizzarlo in questo modo Oppure lo possiamo trasformare proprio in un aereo Ecco fatto! Lo sapete che lui fa spettacoli aerei E gli piace davvero molto gareggiare con Jet Ma è sempre pronto a dargli una mano quando ne ha bisogno Ed ecco qui invece la nostra rampa di lancio con le basi per l'atterraggio Ma riconoscete la città che riproduce? Ma siamo a New York Guardate c'è la statua della libertà La bandiera americana E se spingiamo? Oh benvenuti in USA E qui? E qui ci sono tutti i grattacieli Avete visto? Qua c'è un lampione E possiamo anche girarlo E un cartellone con la scritta New York e la bandiera americana Guardate com'è bello! Sembrerà proprio di essere in mezzo ai grattacieli Grattacieli Ecco qua! Tutti i grattacieli Ma vediamo un po' sotto a questo cartellone che cosa c'è Vediamo Ma c'è una porta! Ma si potrà aprire questa porta? Vediamo un po' Sì! Si può aprire! Chissà chi ci sarà qui dietro Vediamo Ma c'è Jet! Ciao Jet! Ed ora possiamo anche richiuderla E questo? Questa è l'insegna di New York New York City E sotto a questa insegna C'è la scritta Burger E un buonissimo hamburger come insegna E se ci spostiamo qui Qui sotto Vedo altri negozi Spostiamo la rampa E guardiamoli meglio Ma qui vendono la pizza È una pizzeria Ma guardate La statua della libertà Qui sotto c'è un pulsante A che cosa servirà? Tra poco lo vedremo Ma abbiamo visto solo un lato di questa base Proviamo a girarla Ma qui sono atterrati gli amici di Jerome Infatti questa è proprio la pista per l'atterraggio Guardate Se giriamo gli ingranaggi Possiamo persino far girare questa ruota Giriamo ancora la nostra base E vediamo se c'è qualcos'altro in questo lato Ma ci sono altri grattacieli E la bandiera americana è questo? Questo è un ingranaggio Che cosa succede? Se lo azioniamo Proviamo a vedere dall'altra parte Se azioniamo l'ingranaggio Facciamo uscire un grattacielo Ed è davvero altissimo Ed ora vi va di giocare Jerome sta volando tra i grattacieli Ma bisogna atterrare Dove potrai mai atterrare Dove potrai mai atterrare Jerome? Pronti per l'atterraggio? Atterraggio perfetto Ed ora posizioniamoci Dobbiamo andare sulla rampa Eccoci qui Pronti a scendere su questa rampa? Oh Oh Eccolo che arriva Oh Ancora riproviamo Oh Ma qui che cosa c'è? Proviamo a girare questo ingranaggio Oh Ma questa base è ruota Posizioniamo Jerome Sulla rampa E via Forza Scendi Jerome Avete visto? Per farlo scendere Potete anche posizionarlo In questo modo E poi alzare questa leva Ed ora Cambiamo rampa Mettiamolo qui Proprio alla base Della statua della libertà Ma ora Prendiamo il pulsante Ecco fatto E cosa accadrà Se schiacciamo la statua? Uno Due Via Oh È partito Riproviamoci È troppo divertente Vederlo volare Su questa rampa Oh Forza Oh E quando avete finito di giocare Guardate come rimetterà a posto Questa base Lui mettiamolo qui Si farà una bella mangiata In pizzeria Forza Dentro la pizzeria Pieghiamo le rampe In questo modo Pieghiamo tutti i dettagli Ed ecco qui Abbiamo richiuso tutto il set Guardate come è diventato Sembra proprio Un pacco da consegnare Avete visto? Abbiamo anche il franco bollo La bandiera americana E la mappa del mondo Così sarà davvero facilissimo Tenere in ordine tutto il gioco Ed ora dobbiamo salutarci Lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale E per vedere tanti altri giochi Cliccate qui Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao